abbiamo detto che la vita è una che ha un'origine comune in altre parole che l'universo è un grande organismo ma contiene innumerevoli organismi minori in una scala infinitamente discendente tutti radicati nella sorgente sconosciuta da cui nascono alla vita come i bambini dai loro genitori come è già stato detto abbiamo i dirigenti del cosmo dei pianeti degli dei dei semi dei dei sistemi solari dei pianeti dei grandi veggenti e saggi quando arriviamo all'umanità troviamo le sue unità assemblate assieme in paesi città famiglie eccetera ne segue che il karma deve agire sia collettivamente sia individualmente i grandi cicli influenzeranno le razze nel loro insieme le più piccole le varie suddivisioni in questo qualcuno ha visto il fatalismo o un destino inevitabile ma non è presente più dei cicli individuali questi raggruppamenti non sono arbitrari più di quelli che i chimici trovano tra gli elementi sono tutti dove sono perché vi appartengono e ciascuno ha costruito le sue attrazioni la scelta dell'ambiente comincia con l'individuo gli ego reincarnati come abbiamo detto tornando sulla terra portano con sé i loro caratteri una sioma che sembrerebbe potrebbe funzionare senza spiegarlo avendo quindi tendenze ben definite sono necessariamente attirati da quei genitori che possono dare loro un corpo molto affine alle proprie caratteristiche questo insegnamento getta nuova luce sul problema dell'ereditarietà in accordo con la giustizia essenziale come è stato dimostrato quando la vita è vista da questa prospettiva i bambini non possono addossare ai loro genitori la responsabilità delle cattive tendenze e biasimare quindi il fato e la sorte per la loro nascita e per l'ambiente i genitori naturalmente possono fallire nell'affrontare i problemi che trovano nella loro progenie problemi che forse hanno aiutato a creare in vite passate e che devono in questi casi addossare pesantemente su se stessi ma questa è un'altra storia così proprio come l'individuo sceglie la sua famiglia così la famiglia sceglie la sua nazione e la sua razza vale a dire egli rinasce la dove appartiene per la sua natura inerente quindi gli individui sono coinvolti nel karma nazionale perché hanno aiutato a formarlo un limitato ed intenso nazionalismo potrebbe annettere un individuo ad una particolare nazione oppure in un'altra per un forte sentimento del dovere verso la nazione o un desiderio di aiutarla possiamo leggere nell'oceano della teosofia di giud gli azzechi ed altre antiche popolazioni americane si estinsero perché il loro karma il risultato della propria vita come nazioni nel lontano passato ricadde su di essi e li distrusse per le nazioni quest'opera punitiva del karma avviene sempre attraverso carestie guerre convulsioni della natura e sterilità tra le donne della nazione quest'ultimo fenomeno appare all'incirca verso la fine e spazza via tutti i superstiti e l'individuo della razza o nazione è ammonito da questa grande dottrina che se egli cadrà in uno stato di indifferenza di pensiero e di azione abbandonandosi così al karma complessivo della sua razza o nazione quel karma nazionale o di razza lo trascinerà nel destino generale ecco perché gli antichi maestri proclamavano venite fuori e separatevi insieme alla reincarnazione la dottrina del karma spiega la miseria e la sofferenza del mondo senza lasciare l'opportunità di accusare di ingiustizia la natura la miseria di qualsiasi nazione o razza è il risultato diretto dei pensieri e delle azioni degli ego che compongono quella razza quella nazione la regola immutabile è che l'armonia se è stata violata deve essere ristabilita così questi ego soffrono mentre fanno risarcimento e stabiliscono l'equilibrio del cosmo occulto l'intera massa degli ego deve incarnarsi e reincarnarsi ripetutamente nella nazione o razza finché hanno esaurito le cause messe in moto sebbene la nazione possa sparire per un periodo come una cosa fisica gli ego che la formano anzi che la formarono non lasciano la terra ma tornano a formare qualche nuova nazione in cui devono continuare il loro compito subendo sia la punizione sia la ricompensa a seconda del loro karma gli egiziani sono un esempio di questa legge certamente arrivarono ad un punto elevato di sviluppo ma con uguale certezza furono estinti come nazione ma le anime i vecchi ego vivono ancora e compiono il loro destino che essi stessi crearono in un'altra nazione del nostro attuale periodo potrebbero essere la nuova nazione americana o gli ebrei condannati a vagare per il mondo e a soffrire molto per mano degli altri questo processo è perfettamente giusto prendete ad esempio gli stati uniti e gli indiani e gli indiani pelle rossa questi ultimi sono stati trattati in modo infame gli ego indiani rinasceranno nei nuovi popoli conquistatori e come membri di quella grande famiglia avranno essi stessi i mezzi per causare i dovuti risultati che meritarono le azioni compiute contro di loro per tali atti compiuti contro di loro quando avevano la pelle rossa così è accaduto prima e così succederà di nuovo ma la storia insegna che spesso nei disastri nazionali non tutti sono coinvolti ci domandiamo perché i cicloni nella loro apparentemente folle corsa scelgano le loro vittime in maniera davvero curiosa perché i terremoti distruggano certe zone non altre perché alcune persone erano per caso altrove e non a casa loro anche nei cataclismi razziali che fanno piazza pulita si registra lo stesso strano fatto questo è sorprendentemente illustrato nella storia raccontata della dottrina segreta l'immersione del principale continente di atlantide prima della conclusione della civiltà altamente intellettuale e brillante di atlantide molti dei poteri psichici spirituali e superiori furono rivelati alla razza la maggior parte delle persone usò egoisticamente questi poteri e divennero stregoni neri d'altro canto molte delle nazioni e tribù si trasformarono in quello che esotericamente è chiamato il sentiero della mano destra e divennero maghi bianchi usando impersonalmente i loro poteri furono avvertiti dall'imminente disastro globale che era in arrivo da quei grandi esseri che sorvegliano eternamente le razze umane una descrizione suggestiva e vivida di questo periodo della nostra storia antica è data proprio nella dottrina segreta in cui la madame blavatsky accenna che la storia dell'esodo nel vecchio testamento fu costruita sulle leggende di quel remoto evento ci dice come il grande re dalla faccia abbagliante inviò i suoi veicoli aerei ai capi su tutta la terra e come i grandi adepti e i loro seguaci sfuggirono alla distruzione di un quarto della terra sui vimana le navi aeree di gran lunga superiori a quanto abbiamo oggi e diventero fondatori della quinta razza la descrizione si chiude proprio così le nazioni che furono spazzate via erano così compatte come le stelle della via lattea come un serpente srotola lentamente il suo corpo così i figli degli uomini guidati dai figli della saggezza aprirono i loro percorsi si estesero come un flusso continuo di acque dolci molti di loro dal cuore debole perirono lungo il cammino ma la maggior parte si salvò qui possiamo vedere il lavoro benefico della natura ovviamente sebbene gli atlanti dei malvagi fossero destinati a reincarnarsi in seguito nella quinta razza giunsero nuove terre vergini dove i seguaci della legge karmica avevano ottenuto il sopravvento e dove le opportunità di progresso erano maggiori non di meno essi sono una parte di noi stessi ed è stato affermato che noi stiamo soffrendo ancora per il karma degli atlantidei consapevoli degli stretti legami che vincolano insieme i membri della nostra famiglia umana dobbiamo dedurre che la responsabilità degli elementi che disturbano non cesserà fino a quando saranno redenti se questo non è riconosciuto allora le sofferenze che essi hanno sicuramente procurato ai più nobili ai più avanzati diventeranno un ricordo della nostra sfortunata ereditarietà atlantidea ed un'azione completa il karma come è stato detto è universale si muove da un mondo all'altro i pianeti nascono dei pianeti loro genitori lo stesso vale per i sistemi solari per gli universi ogni cosa è il risultato di una causa precedente niente avviene per caso in verità i popoli della nostra terra creano la loro storia generano le forze che certamente si focalizzano in un periodo determinato i grandi veggenti possono prevedere il futuro che il passato e il presente additano con certezza possono dire perché e quando una razza deve percorrere il suo cammino quando incombono i cataclismi quando appariranno i periodi di una civiltà e quindi conoscere come e quando usare le loro energie per illuminare il più possibile il pesante karma del mondo leggiamo nella dottrina segreta perché questa sterilità karmica assale e sradica certe razze nel loro momento stabilito la risposta che è dovuto ad una sproporzione tra le razze colonizzatrici e quelle aborigine è ovviamente evasiva perché non spiega l'improvviso impedimento alla fertilità che sopravviene così di frequente l'estinguersi degli hawaiani ad esempio è uno dei problemi più misteriosi di oggi l'etnologia prima o poi dovrà riconoscere con gli occultisti che la vera soluzione va ricercata nel comprendere le opere del karma come ribadisce le frere si avvicina il tempo in cui rimarranno solo tre grandi tipi umani prima del sorgere della sesta razza radice tra parecchi milioni di anni il tipo bianco ariano la quinta razza radice quello giallo e i neri africani con i loro incroci quindi tutte le divisioni atlanto europee i pelle rossa gli eschimesi papua gli australiani polinesiani eccetera si stanno tutti estinguendo quelli che realizzeranno che ogni razza radice passa attraverso una gamma di sette sottorazze con parecchie ramificazioni eccetera comprenderà il perché la marea degli ego incarnati le ha oltrepassate per raccogliere l'esperienza in ceppi più sviluppati e anche meno vecchi e la loro estinzione quindi è una necessità karmica possiamo proseguire terminando così il video sempre con la dottrina segreta che così afferma tuttavia i pronostici di questi avvenimenti futuri in ogni caso sono tutti predetti sull'autorità degli avvenimenti ciclici non vi è coinvolto alcun fenomeno psichico non è una previsione né una profezia non più di quanto sia la segnalazione di una cometa o di una stella parecchi anni prima della sua apparizione è semplicemente la conoscenza e il calcolo matematicamente corretto che rende capaci gli uomini saggi dell'oriente di pronosticare ad esempio che l'inghilterra è alla vigilia di un'altra catastrofe del genere al momento la francia si sta avvicinando a un tale ciclo e l'europa in generale e alla vigilia di un cataclisma al quale l'ha portata il proprio ciclo di karma razziale l'affidabilità dell'informazione dipende è ovvio dall'accettare o respingere l'affermazione di un periodo tremendo di osservazione storica gli iniziati orientali affermano di aver conservato le registrazioni dello sviluppo razziale degli eventi a carattere universale fin dall'inizio della quarta razza che ha preceduto quella tradizionale